I prossimi che stanno per arrivare parliamo di un duo Latin, tre esibizioni, cia cia rumba e samba, parliamo di Thomas Scarano e Serena Tardio, vice campioni regionali nel duo Latin e poi c'è Noemi Scarpa e Noemi Giuliano, facciamo un applauso caloroso anche a loro, anche perché si sono classificati al primo posto sia nella seconda che nella terza tappa di Coppa Italia, come anche nella gara internazionale svoltasi a Scalea, quella a cui facevamo riferimento poco fa, che si è svolta appunto nel corso del mese di aprile, poi dopo ritorneranno di nuovo Nicolò e Federica, dove si esibiranno in un segue standard, Valzer inglese, Tang e Quickstep e poi a seguire, tratto dal film nove settimane e mezzo, un gruppo novello appunto di questa scuola, ovvero le Crazy Dancer, insomma, che ci alletteranno con questo spettacolo. Leo Dancing Club Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.